La mostra del fiore di Pescara resiste al maltempo. Nonostante freddo e piogge, i visitatori non hanno mancato l'appuntamento con quella che è ormai l'esposizione più partecipata dai floricultori e gli artisti della composizione floreale. Un successo che ormai, da molti anni, è per la città un punto fermo. Io credo che chi viene a trovarci qui presso il Marina di Pescara comprende che la qualità è il nostro valore aggiunto. Io mi devo complimentare sia col settore promozione sia con gli organizzatori della mostra del fiore di Assoflora perché hanno fatto qualcosa di molto gradito alla città e questo sta proprio nei pareri, nei commenti che si sentono andando in giro per la mostra del fiore. Quest'anno un omaggio speciale per gli 80 anni da poco celebrati dalla Pescara Calcio. Al centro del padiglione spicca un delfino completamente realizzato con fiori che è valso la passerella dei giocatori biancazzurri nelle prime ore del mattino. Un riconoscimento per la città che da sempre sostiene la sua squadra. È evidente che il Pescara è dei pescaresi, diciamo che è la squadra di riferimento della regione quindi deve partecipare alla vita non solo della città ma anche della regione.